In questa video guida parliamo di quadri albero della vita. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. I quadri che rappresentano l'albero della vita sono molto usati negli ultimi anni. L'albero della vita più utilizzato è un quadro del grande pittore austriaco Gustav Klimt. Se ne trovano diverse effigi sui più svariati materiali, da quelli che sono delle fedeli riproduzioni dell'originale, quindi con colori dorati e dallo stile armonico con forme rotondeggianti, a quelli stilizzati in bianco e nero passando per i più vari opinti. Di diverse dimensioni possono essere dipinti su tela, stampe, pannelli di trucciolato, tele canvas. Generalmente vengono appese alla parete senza cornice così da far risaltare al meglio la rappresentazione che ha significato di buon auspicio per chi li mostra nella propria casa.